capitolo undicesimo di le storie del castello di trezza di giovanni verga questa registrazione librivox è di dominio pubblico letto da francesca roma capitolo undicesimo la notte s'era fatta tempestosa il vento sembrava assumere voci e gemiti umani le onde flagellavano la rocca con un rumore come di un tonfo che soffocasse un gemito d'agonia il barone dormiva ella lo vedeva dormire immobile moribonda d'angoscia sentiva la tempesta dentro di sé e non osava muoversi per timor di destarlo avea gli occhi foschi le labbra semiaperte il cuore le si rompeva nel petto e sembravale che il sangue le si travolgesse nelle vene provava bagliori sfinimenti impeti inesplicabili vertigini che la soffocavano tentazioni furibonde grida che le salivano alla gola fascini che la ghiacciavano terrori che la spingevano alla follia sembravale di momento in momento che la volta dell'alcova si abbassasse a soffocarla o che l'onda salisse e traboccasse dalla finestra o che le imposte fossero scosse con impeto disperato da una mano che si afferrasse a qualcosa o che il mugito del mare soverchiasse un urlo delirante d'agonia il gemito del vento le penetrava sì nelle ossa con parole arcane che la intendeva che le dicevano arcane cose e le facevano dirizzare i capelli sul capo e teneva sempre gli occhi intenti e affascinati nelle orbite incavate ed oscure di quel marito dormente il quale sembrava la guardasse attraverso le palpebre chiuse e leggesse chiaramente tutti i terrori che sconvolgevano la sua ragione di tanto in tanto si asciugava il freddo sudore che le bagnava la fronte e ravvivava macchinalmente i capelli che sentiva formicolarsi sul capo come fossero divenuti cose animate anch'essi quando l'uragano taceva provava un terrore più arcano e con un movimento macchinale nascondeva il capo sotto le coltri per non udire qualcosa di terribile ad un tratto quel suono che pareva l'aver udito in mezzo agli urli della tempesta quel gemito d'agonia visione o realtà sudì più chiaro e distinto allora mise uno strido che non aveva più nulla d'umano e si slanciò fuori del letto il barone svegliato di soprassalto la scorse come un bianco fantasma fuggire dalla finestra si precipitò ad inseguirla saltò sul ballatoio e non vide più nulla la tempesta ruggiva come prima sul principio fu trovato il fazzoletto che avea asciugato quel sudore d'angoscia sovrumana fine del capitolo undicesimo fine del capitolo